Marte di 10 aprile a Roma si terrà il convegno Maxi Emergency, Safety and Security. Ai nostri microfoni il presidente del convegno, il dottor Giuseppe Noschese. Il 10 aprile l'IDMA, International Disaster Medicine Association, ha organizzato questo convegno in merito alle maxi emergenze. Maxi emergenze è un tema ricorrente per l'IDMA, ogni anno andiamo a trattare dei temi nuovi. L'anno scorso abbiamo trattato delle maxi emergenze in ambito ambientale, la regione Campania ne ha tanti di aspetti da dover considerare per la gestione delle maxi emergenze. Quest'anno parleremo delle maxi emergenze legate ai flussi migratori. L'evento si terrà presso CINCNAB, che è il centro comando e controllo della Marina Militare, che è localizzato a Roma. Molti sono relatori, provenienti anche dall'estero, oltre che da diverse regioni italiane. Cercheremo di fare il punto sulla situazione immigrazione. Immigrazione selvaggia che comporta degli aspetti di sicurezza, oltre che per questi immigrati che arrivano in situazioni veramente di grande difficoltà, sia per il personale preposto al loro reperimento in mare. Quindi sono temi molto importanti che verranno dettagliatamente trattati da importanti relatori presenti al convegno. Grazie a tutti.